Una serie di iniziative in memoria delle vittime delle foibe e del dramma dell'esodo Giuliano Dalmata. In questo contesto, a vent'anni dall'istituzione del giorno del ricordo, si inserisce l'incontro in memoria delle vittime delle foibe che si è svolto in sala consigliare a Palazzo Ducale di Martina Franca, promosso dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con il patrocinio dell'assessorato alle attività culturali e formative alla presenza di un nutrito gruppo di studenti. Quest'anno abbiamo pensato di organizzare un discorso che vede in maniera particolare coinvolte le scuole locali. Queste classi hanno avuto modo di leggere un testo di Alessandro Porro, che il nostro ospite è solo da Capodistria, che ha raccontato le vicissitudini familiari e ha realizzato un DVD. Perché è importante celebrare il giorno del ricordo? È importante perché per anni, per decenni, è stata una pagina della storia dimenticata, obnubilata. Ricordare queste vicende significa ricostruire un'identità storica nazionale, portare un momento di condivisione, superando attriti e visioni di parti che hanno ostacolato un'acquisizione delle memorie, delle sofferenze che il popolo istriano ha subito, prima con le violenze delle foibe e poi con il drammatico esodo. Esodo che ha caratterizzato anche la nostra provincia. Circa 1.500-1.600 esuli arrivarono qui a Tarno e in provincia e soggiornarono qui a Martina dal febbraio al settembre 1947 nelle conventi dei Cappuccini. Quindi è una storia che ci coinvolge.